la singolarità di napoli passa anche per una traversa di corso umberto primo dove è ubicata la fontana della spina corona detta anche dai napoletani fontana delle zizze con essa il suo scultore ha scelto di rappresentare i due simboli storici della città il minaccioso vesuvio in eruzione e la bellissima sirena partenope che spegne il vulcano e salva la città di napoli con l'acqua che fuoriesce dai suoi seni ecco il perché del colorito nome che i napoletani preferiscono utilizzare le sue origini sono tutt'oggi incerte si fa menzione della fontana per la prima volta nel 1498 in un documento denominato la platea delle acque relativo alla distribuzione idrica in città la struttura principale ove la statua è rappresentata insieme al vesuvio risulta secondo l'erudito carlo celano risalente ad un'epoca più antica probabilmente al dodicesimo secolo l'opera scultorea costituisce tuttavia una testimonianza del passaggio dai gusti medievali alle prime forme decorative barocche il soggetto principale è rappresentato dalla sirena partenope icona mitologica della città di napoli raffigurata come si è detto in procinto di spegnere la lava del vesuvio in eruzione attraverso l'acqua sgorgante dai suoi seni alcune interpretazioni colgono l'allusione alle frequenti ribellioni del popolo napoletano appunto rappresentate dal vesuvio che rutta ed incendia la città per sedare le quali veniva appunto invocata la sirena partenope la fontana visibile attualmente solo una copia dell'originale attribuita allo scultore giovanni merliano da nola che la restaurò nel 1540 per volere del vicere don pedro di toledo il quale fece apporre lo stemma di carlo quinto quello a scacchi del vicere e quello rosso e dorato della città la copia scolpita da chile orsi è tuttavia identica all'originale mentre la statuetta vera della sirena sin dagli anni 20 del ventesimo secolo è custodita presso il museo nazionale di san martino la fontana di spinacorona si trova in via giuseppina guaccinobile un'arteria parallela al corso umberto primo per ammirarla da vicino basta giungere in piazza garibaldi e da lì proseguire con l'autolinea anm r2 sino alla fermata di via tari presso l'università federico secondo da dove in cinque minuti si arriva in via guaccinobile chi invece volesse utilizzare la linea 1 della metropolitana potrà scendere alla fermata università di piazza bovio percorrendo corso umberto primo sino a via tari e quindi svoltare in via guaccinobile sino alla fontana di spinacorona a a a